Buona giovedì 27 maggio. Prima di tutto, come ogni giovedì, ricordo l'incontro delle 18 e 30 della scuola primaria con la lezione che riguarda la biodiversità, la diversità della vita e la biopolitica, la politica della vita, a partire dalla considerazione derivante dalla lettura del paradigma alcologico, cioè come noi ci poniamo di fronte alle problematiche alcol correlate, a partire proprio dalla biodiversità e dalla biopolitica, all'interno di una visione ecologica e sistemica. Non preoccupatevi, non è un argomento difficile, è molto concreto e rappresenta ciò che noi facciamo di fronte al consumo delle bevande alcoliche, rappresenta l'essenza stessa del lavoro dei club. Non è l'applicazione meccanica, la visione ecologico-sociale di una tecnica per disintossicare gli alcolisti, per indirizzarli verso un percorso di cura eterodiretta, di riparazione di parti dell'organismo rotte, di rieducazione alla morale precedente che li ha caratterizzati, alla visione precedente che ha fondato il loro stesso stato di intossicazione, perché nell'alcolista astinente è sempre presente attraverso il suo ritorno alla normalità, la condivisione con l'errore di impostazione appunto della politica della vita e della diversità della vita che i normali hanno, perché i normali, chiamiamoli così, voi sapete bene che è un termine totalmente astratto, sciocco per certi aspetti, ma chiamiamoli così, coloro che si presumono normali, hanno uno scarsissimo rispetto della vita nella sua diversità, vogliono possederla, omologarla, trasformarla, amano gli OGM, perché pensano di poter intervenire sul principio stesso della vita, diventando loro stessi i creatori. Uso loro ma siamo tutti noi che siamo fatti così, dotati di una coscienza e di una intelligenza, presumiamo di essere padroni della vita, non appartenere alla vita, che è molto delicata, ricca, trasformativa e estremamente diversa nei diversi punti del pianeta, ma anche nella storia personale di ciascuno. La biodiversità è fondamento dell'ecologia e la politica che oggi amministra è stata semplicemente da servitore sostanzialmente, il dettame dell'economia e del pensiero unico, una politica che ha rinunciato alla sua ricerca passionale, sentimentale e ideale di dare un contributo di servizio alla vita, non al denaro. La politica oggi è tutta orientata a contenere una crisi, l'ha già fatto negli ultimi vent'anni, trent'anni, le crisi si sono susseguite, esattamente come accade nell'intossicazione alcolica. Quando la persona è incline all'incremento delle intossicazioni, i parenti, gli amici ricorrono sempre alla stessa modalità di risposta, non si mettono in gioco, cercano di consegnarlo a qualcuno che lo riaggiusti perché torni alla normalità e far sì in questo modo che non ci sia una messa in discussione del modo di vivere della famiglia, delle relazioni. Esattamente la stessa cosa di quello che fa la politica di fronte alla crisi, cosa fa? Cerca in tutti i modi di evitarla, di chiuderla e chiudendola naturalmente non riesce a intravedere l'insegnamento che direva della crisi. Per cui il seminario di oggi, scusate, la lezione di oggi, proprio perché siccome è preparatoria del seminario, mi è venuto in mente il seminario, è un passaggio verso il seminario di domenica, che è importantissimo, non è astratto, non è teorico, perché parla del valore politico della sobrietà e verso una nuova spiritualità antropologica. È essenza del lavoro del club, è qualcosa che ci tocca sul piano personale. Sono molte le persone che si stanno preparando per donarci la loro riflessione domenica e noi siamo invitati a partecipare numerosi, a non disattendere questo appuntamento sia in presenza, sia attraverso Zoom, attraverso la tecnologia. Ma è importante che ci predisponiamo a essere presenti con un atteggiamento attivo, partecipato. di oggi. Detto questo, voglio segnalare quanto ieri mi ha scritto Patrizia Guccini, che ha evidenziato una serie di trasmissioni che trovate sul sito Uomini e Profeti, che riguardano il rinascere. Sono per ora quattro trasmissioni scaricabili, ascoltabili in internet, condotti da Madera. Sono trasmissioni molto interessanti, che toccano profondamente l'essenza stessa dell'ecologia, della sofferenza mentale, dei disturbi del comportamento. È un invito a rinascere, come dicevo prima, la politica della vita. Il rispetto della diversità della vita, della biodiversità, è un invito a rinascere costantemente giorno dopo giorno. Detto questo, mi soffermo su un aspetto che ho tralasciato ieri, cercando di rispondere alla sollecitazione di Stefano Alberini. Qui è un concetto che io stesso ho utilizzato, una parola che l'ho fatta entrare nel mio vocabolario, per un tempo breve, ma devo confessare che ci ho creduto che fosse una parola utile. Qualcuno poi intorno a me, con saggezza, ha dichiarato la sua critica nei confronti di questa parola. Il fastidio anche che provava di fronte a questa parola, resilienza. E quella critica, quel fastidio, progressivamente mi ha posto nelle condizioni di toglierla dal vocabolario. Non sapevo bene il perché, cioè avevo un po' intuito la sua valenza retorica, fastidiosa. Come molto spesso accade con parole che sono molto accattivanti. Emozioni, empatia, ma sono parole che rischiano di distorgere la realtà. Non entro nel merito oggi delle emozioni e dell'empatia, che sicuramente hanno un valore molto più elevato e necessitano pertanto di ulteriori approfondimenti rispetto alla resilienza. Resilienza è una parola che è applicata ai materiali e si indica la qualità di materiali che sono in grado di essere elastici. Trasferito il tutto nel campo della psicologia, ma anche della politica e dell'economia, resilienza è una rappresentazione di un invito a imparare di fronte al trauma, a retrare per tornare a essere esattamente come eravamo. Quindi questa intenzione di educare alla resilienza è un invito sostanzialmente alla conservazione, non al movimento trasformativo di fronte a un trauma o una crisi. È una parola che fa un po' da sentinella dell'ordine costituito. È chiaro che è carico questo termine di elementi suggestivi, emotivi. ci si immagina come capaci di affrontare i traumi con grande elasticità. E anche se vi è una apparente somiglianza tra resilienza e resistenza, in realtà nella condizione di arretramento per tornare al punto di partenza, vi è esattamente una condizione opposta ad una resistenza che è assonante con la lotta trasformativa di fronte al trauma, che non mi posso permettere di dire lo accolgo, lo subisco, e nel momento in cui lo subisco in tutta la mia fragilità. Rischio anche di essere, in virtù della mia fragilità, frantumato. E questo mi chiede un movimento in avanti, perché questa cultura dell'elasticità ha molto a che fare con la cultura dell'ipocrisia, dell'accomodamento e del conformismo. La resistenza invece ha molto a che fare con la cultura della lotta trasformativa. Sì, tu mi fai del male, mi frantumi, ma io sono pronto a rinascere, non come ero prima, ma in una prospettiva nuova. E c'è un grande furoreggiare di insistenza sulla resilienza, sostituendo radicalmente la parola resistenza, che è l'opposto di resa, cioè quella di archiviare. No, non si archivia proprio niente, perché il trauma subito, il trauma è sempre subito, certo c'è una tua responsabilità in quello che accade sempre e comunque, ma il trauma è un evento imprevedibile, rispetto al quale quella tua responsabilità ti invita a riflettere, ad andare oltre, non a rimanere fermo assorbendo il trauma. Non so se sono stato chiaro, ma mi sembra una radicale differenza tra resilienza e resistenza, che mette in campo la nostra responsabilità. Rispondere in modo resistente è molto diverso che rispondere in modo resiliente, perché la risposta resiliente è un invito al conformismo. La risposta resistente è un invito alla ribellione responsabile, che significa operare una trasformazione radicale, che non si conclude con l'accettazione, ma fa fare un balzo evolutivo in avanti. Questo è molto importante, lo dovremmo approfondire ulteriormente questo tema, ritengo, non certo in queste poche battute delle riflessioni mattutine. Quell'invito è appunto quello di ricominciare a essere resistenti e in rivolta. Ma in rivolta nei confronti della nostra stessa visione, del nostro modo di porci, nel nostro rapporto con la biodiversità e con la politica della vita che incarniamo nella nostra esistenza quotidiana. Non pensiamo alla politica come luogo dei palazzi, come luogo del potere conservatore, sempre e comunque anche quando si dichiara rivoluzionaria. E teniamo sempre presente quell'esempio molto semplice del consumo delle bevande alcoliche, che richiama inevitabilmente il nostro rapporto con la questione patologia mentale, malattia mentale e salute mentale. siamo capaci di essere resistenti e fare un passo trasformativo che oltre che mettere tra parentesi la malattia mentale progressivamente la elimini come categoria astratta che richiama semplicemente un desiderio di esclusione e di non interrogazione in noi stessi in ciò che ci riguarda direttamente anche quando da un punto di vista dell'espressività comportamentale sembriamo essere quasi normali o normali. Qui richiamo tanti aspetti della presunta normalità. e quindi se noi cambiamo il nostro modo di vivere la politica della vita è chiaro che anche nel club possiamo permetterci di avere il coraggio del protagonismo del protagonismo resistente, reattivo, non semplicemente adattativo è chiaro che nel processo trasformativo c'è una costante forma di adattamento mai evolutivo mai fermo, stabile fisso nel punto in cui siamo arrivati sono tutti concetti che cercheremo di approfondire oggi pomeriggio domenica al seminario ma sono concetti che sono basilari per la vita del club buona giornata a tutti